Siamo a Ema 2010 per presentare le novità tecniche premiate da Una Coma. Questa è la novità tecnica di Ferri SRL. Si tratta di un dispositivo per il controllo della stabilità del gruppo braccio decespugliatore con trattrice RBS, Rich Balance System. La motivazione del riconoscimento di novità tecnica 2010 è che la macchina permette di affrontare in modo attivo uno dei più gravi rischi in agricoltura, quello del ribaltamento laterale del trattore, quando accoppiato ad un'attrezzatura che richiede particolare attenzione, cercando di evitare il verificarsi dell'evento piuttosto che limitare i danni causati dallo stesso. Le caratteristiche. Il dispositivo di sicurezza per braccio decespugliatori che fornisce all'operatore un'indicazione preventiva di pericolo o di ribaltamento del mezzo. Il dispositivo si basa sull'acquisizione di dati sulla configurazione di lavoro del braccio decespugliatore e sull'inclinazione dell'assieme macchina motrice e operatrice, disponibile in due versioni, sicurezza attiva o passiva. Una centralina elettronica acquisisce queste informazioni e le elabora in funzione delle caratteristiche proprie della macchina. Il dispositivo fornisce un'indicazione visiva e acustica dei fattori che portano ad aggamentare il momento ribaltante, longitudinale o trasversale dell'assieme macchina motrice e operatrice. Il dispositivo fornisce un'indicazione visiva e acustica delle caratteristiche proprie della macchina.